Oltre ad essere la mia prima regata con gli Extreme 40, è proprio la mia prima regata al timone di un catamarano, a parte la Coppa America con Oracle. Oggi è stata una bellissima giornata insieme a una flotta super piena di campioni ed è stato incredibile e emozionante stare a giocare insieme con noi. Una giornata splendida, vento, tante regate, un percorso perfetto, credo che sia quello che ogni velista vuole ogni giorno, per cui siamo pronti per ritornare in mare domani a regatare.